oggi metto questa maglietta con la mini poi poi ho messo anche le case le mie belle tutte brillanti perché c'è tanto sole fa caldo ma questo clima è ingannevole perché la temperatura è fresca cioè il vento è fresco a dire il vero allora io che volevo metterla mini l'ho aggiunto appunto a queste case e lo metterò con il mio sabattone le mie sabattone queste belle con le zeppe lo metto con queste se vediamo adesso come sta la mini con queste ciabattine con gli strass anche i capelli selvaggi meglio se metto anche il giubbotto perché c'è sempre questo vento fastidioso anche forse era più bello il chiodo era più bello il giubbottino di pelle ma con il vento un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, ora parto. Ma non so, è tutto a posto, tutto, funziona tutto alla perfezione. Sarà stato solo un attimo, un pochino di disfunzione. Allora, adesso vi saluto e vi auguro un buon weekend. Io parto, eh? Parto!